E' il giorno dei grandi ospiti al G7, Borgo e Ignazia diventa davvero centro del mondo. Tra gli altri si va dal presidente brasiliano Lula, all'argentino Mileipo, il turco Erdogan, il re di Giordania, il premier indiano Modi e il segretario generale dell'ONU Guterres, tutti riuniti per discutere non soltanto di intelligenza artificiale. Tra gli ulivi del Salente è stata l'occasione per confrontarsi sui tanti dossi aperti nello scacchiere internazionale, tra i quali anche quello dell'immigrazione. E' proprio la Puglia, terra del sud, ricorda Meloni, e nello stesso tempo ponte tra l'Oriente e l'Occidente, tra l'Africa e l'Europa, motivo per cui è stata scelta come sede del G7. E si è tornati a discutere anche delle crisi in corso dal Medio Oriente all'Ucraina. Temi affrontati nel bilaterale tra la premier Meloni e il presidente degli Stati Uniti Biden, ha ribadito il sostegno a Kiev per 50 miliardi frutto del congelamento degli asset russi, ma sullo sfondo anche l'ipotesi di un ingresso dell'Ucraina nella Nato. Biden poi ha lodato il supporto che l'Italia ha dato a Kiev. Per quanto riguarda il Medio Oriente, sostegno alla soluzione dei due Stati per due popoli e il cessate il fuoco a Gaza. Ci sono stati anche momenti più leggeri, come quello per festeggiare il compleanno del cancelliere tedesco Schultz. Si lavora ora la bozza finale. Il presidente degli Stati Uniti dovrebbe lasciare stasera il summit che si concluderà con un concerto di Bocelli e una cena informale.